inizia concentrandoti sul respiro andando sempre più in profondità ad ogni respiro calati sempre di più in uno stato meraviglioso e sereno sempre più profondamente concentrati sul respiro e lo yoga del respiro è una tecnica antica sempre più profondamente ad ogni respiro intanto rilassa tutti i muscoli e senti come ti stai rilassando ancora più profondamente rilassa i muscoli del viso e della macella rilassa i muscoli del collo rilassa completamente i muscoli e ora rilassa i muscoli delle spalle sentili leggeri e sciolti completamente rilassati rilassa i muscoli delle braccia e della schiena rilassa i muscoli addominali in modo che il tuo respiro sia meravigliosamente rilassato profondo e regolare e infine rilassa i muscoli delle gambe ora rilassa tutto il corpo distendendoti rilassandoti profondamente completamente senti come ti stai rilassando ancora più profondamente ora visualizza una luce bellissima che entra in te dalla sommità della testa e comincia a diffondersi dolcemente in tutto il tuo corpo dall'alto verso il basso espandendosi nel cervello e nel sistema nervoso facendolo splendere di una luce meravigliosa scegli un colore o tanti colori e una luce potente rilassante unita alla luce che ti avvolge mentre ti rilassi sempre più profondamente questa luce raggiunge le mani e le dita mentre ti rilassi sempre più profondamente e ti senti così in pace e profondamente rilassata così serena così calma concentrati sulla mia voce lascia svanire i rumori e concentrati sempre più profondamente e la luce scende giù lungo i fianchi e le gambe questa luce meravigliosa, calda, piena di vita, rilassante riempie ogni cellula del tuo corpo giungendo fino ai piedi portando benessere e serenità ogni fibra del tuo corpo è rilassata portandoti pace e serenità e ti senti profondamente calma abbandonati ancora di più e ora immagina di essere completamente avvolta dalla luce visualizzati come se fossi in una bolla o in un alone luminoso che ti protegge nessun male può passare attraverso la luce solo bene solo energia positiva solo energia d'amore tra poco farò un conto alla rovescia da 10 a 1 lascia che ogni numero ti porti più giù così in profondità che quando sarò arrivato a 1 ti troverai in una grande pace tranquillità e rilassamento così in profondità che la tua mente non sarà più condizionata dai limiti dello spazio e del tempo così in profondità che potrai ricordare tutto ogni esperienza fatta non importa quando così in profondità che sarai in grado di sperimentare tutti i livelli del tuo sé 10 9 8 vai sempre più in profondità ad ogni numero 7 6 5 giù più giù sempre più giù 4 3 così in profondità così in pace così rilassata e calma 2 ci siamo quasi 1 ed ora guarda sei al sicuro la luce ti protegge solo amore intorno a te ascolta qualcuno ti parla ascolta attentamente ti richiamerò più tardi sempre con il conto alla rovescia da 10 a 1 così luce